Corsa di gruppo 2 dotata di quasi 70.000 euro di Montepremi L'edizione 2009 del Gran Premio Presidente della Repubblica di Galoppo Nelle retrovie, l'OBAC La lotta per il comando con Locomotion OM Letterfront e Parton hanno scavalcato l'AIC di Poggio all'interno Posizioni che non sono ancora assestate Ha sbagliato Laser B tentando la partenza I 200 iniziali in 14-1 E poi al passaggio davanti alle tribune Letterfront OM in vantaggio L'Uver è rimasto di fuori Poi rallenta immediatamente il leader Tanto che il gruppo si ricompatte C'è qualche difficoltà per l'Heroa Viene via Locomotion in terza ruota subito 16 secco di frazione Cavalli che vanno da fronte alla seconda curva L'OBAC squalificato Letterfront OM davanti a L'AIC di Poggio allo steccato Locomotion che si è posto in posizione tattica All'esterno del battistrada Adesso si va pianissimo 17-1 Tanto che ovviamente muove La grande favorita L'Hower Power che scatta di fronte E si beve il gruppo in Meno di 100 metri Provocando tra l'altro il boato della tribuna L'Hower Power leader Davanti agli alleati di Training Frazione in 15-8 che vale anche Ovviamente meno ma che misura di assoluta Normale amministrazione per l'Hower Power In seconda posizione Letterfront OM di fuori Locomotion che nulla ha potuto contro La bordata di Intanto appunto 15-8 di frazione Di quella di Gubelini che adesso va a sollecitare Ovviamente si inizia l'ultimo chilometro Andando a camminare decisamente più svelti Frazione in 14-6 L'Hower Power in vantaggio Locomotion OM di fuori Poi Letterfront OM Quindi like di poggio Sul quale si riporta l'Uvro Nella cui scia all'esterno C'è Little Games che chiude lo steccato Lester Volata anche la penultima curva 14-8 L'Hower Power in vantaggio Con una mossa davvero a sorpresa Sulla addirittura opposta Adesso recupera all'interno qualcosa Letterfront OM Sembra invece in difficoltà Il miglio di gara Locomotion OM Scavalcato da Little Games Che viene in terza ruota Ma si torna ad andare veloci Dopo il 15-1 Della Addirittura opposta Letterfront Che va all'attacco di Lover Power Che comunque allunga I due seguiti da Like di Poggio Mentre Lester Toglia fuori Little Games Addirittura d'arrivo Lover Power Che sembra poter difendersi Ma viene forte Anche Lester All'esterno di tutti Assieme a Letterfront OM Arriva bellissimo Lester E Peppe Pistone Che viene a vincere Una grande corsa Davvero All'ultima curva Ha tagliato fuori Little Games Sarà chiuso a 700 Della fine L'allievo di Enchi Corpi Con il colore di Luci Ricitelli All'ultima curva di Lover Power All'ultima curva di Lover Power L'allievo di Lover Power